A New York è tempo di pranzo, ma prima vi faccio vedere dove sono stato questa mattina, mentre nel pomeriggio si va finalmente a lavorare con le star della WWE, quindi restate sempre sintonizzati sul mio canale. E ora, let's go per le strade di New York! Il suo è Flatiron Building, che era la parte di New York, la pioggia non ha fermato le mie passioni nerdiche guardate un po' cosa ho trovato adesso entro a curiosare andiamo la pioggia la pioggia la pioggia